Salve a tutti raga io sono Ciccio Bellier e oggi siamo qua in un video in cui mangio gli insetti su ebay ho comprato per 14 euro compreso spedizione degli insetti che vengono dall'Inghilterra e sono larve di libellula, locuste e grilli, gli ho già aperti perché ci mette una vita queste sono le larve di libellula, ne prendo una che schifose sono buon appetito buonissimo buonissimo no sinceramente sembra sapete la pasta cinese del sé che buon se la mangiate cruda lo stesso gusto uguale poi prendo un grillo mmm che buonità si è affogato e allora poi ti porta acqua ma il grillo sembra tipo una patatina classica è una patatina senza niente e ora mangio senza sale una patatina questo prendo con le mani che è molto delicato prenditi fai vedere poi poi allora il più brutto forse è la cavalletta perché ha un gusto qualcosa di crudo tipo qualcosa di marcito crudo non so come definirlo ok raga per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi e commentate compratelo anche voi e ci vediamo a dopo ciao ciao